Bentornati su Sanità Aquilana. Il pancreas è un organo che si trova in profondità nell'addome. La sua funzione è quella di produrre diversi ormoni, tra cui l'insulina che regola il livello di zuccheri nel sangue e altri enzimi che servono a favorire la digestione da parte dell'intestino. Purtroppo sono oltre 6.000 le persone colpite dal tumore del pancreas in Italia. Questa sera ne parliamo con il dottor Roberto Vicentini. Buonasera dottore. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Dottore ci spiga qual è la funzione del pancreas. Il pancreas è una ghiandola che lunga circa 15 centimetri che comprende tre parti, il corpo, la testa e la coda. Questa ghiandola ha una componente di tipo endocrino e una componente di tipo esocrino. La componente endocrina produce il glucagone e l'insulina che servono per la regolazione degli zuccheri nel sangue, mentre la parte esocrina produce succhi pancreatici ed enzimi che servono per la digestione delle fibre e di tutti gli alimenti che noi ingeriamo. Mi sembra di capire che il malfunzionamento del pancreas influisce un po' su tutte le funzioni del corpo. Da cosa mi accorgo che ho dei problemi al pancreas? Quali sono i primi sintomi? Allora accorgersi di avere dei problemi al pancreas soprattutto per quanto riguarda la patologia di tipo neoplastico, quella che parleremo in questa seduta, è di difficile interpretazione perché i primi sintomi sono praticamente sintomi a specifici, tipo la dispepsia, cioè la cattiva digestione, sono sintomi che possono essere attribuiti a tanti altri tipi di patologie. Con l'avanzare della malattia incominciano i sintomi che sono più specifici, quali per esempio l'ittero che è il colorito giallasto dell'acute, urine che possono diventare scure, le feci che possono diventare tipo bianco e questo è dovuto al fatto che c'è un'ostruzione della bile al passaggio nel duodeno, dovuta praticamente alla compressione del tumore sulla via biliare. Questo soprattutto succede nei tumori della testa del pancreas, più raramente nei tumori del corpo e della coda, per la loro posizione anatomica proprio. Quando arriviamo a questi sintomi siamo già in ritardo? No, non è detto che siamo in ritardo quando si arriva a questi sintomi, però sono sintomi di allarme. A volte si può essere pure in ritardo, però altre volte, dipende dall'organizzazione del tumore, può essere uno dei primi sintomi appunto l'ostruzione, per cui si può arrivare ancora in tempo. Quindi ci si accorge casualmente di un problema al pancreas? Alcune volte ci si accorge casualmente nel fare per esempio un'ecografia di controllo fatta per altri motivi, un bravo ecografista che guarda il pancreas potrebbe valutare e vedere se vi sono delle lesioni, quindi dei noduli a livello della ghiandola pancreatica. A questo punto diventa particolarmente importante la prevenzione quindi, quali sono i fattori di rischio? I fattori di rischio sono il fumo sicuramente, soprattutto nei grandi fumatori, superiore alle 40 sigarette, altri fattori di rischio sono il diabete, la predisposizione familiare, se ci sta un fratello o un genitore, l'alcolismo, le infiammazioni croniche del pancreas e questi sono i fattori più importanti. Si è visto però che pazienti ammalati in tumore del pancreas non avevano nessuno di questi fattori di rischio, come alcuni pazienti, altri pazienti che hanno questi fattori di rischio non sono mai ammalati di pancreas, su cui è molto controversa la situazione. Attualmente si sta vedendo sulla biologia molecolare per cercare di prevenire il tumore del pancreas, però sta ancora in fase sperimentale. È un tumore che colpisce più gli uomini o più le donne? È un tumore che colpisce più gli uomini, soprattutto verso i 60-70 anni si ha la maggiore frequenza. Come si fa la diagnosi del tumore del pancreas? La diagnosi del tumore del pancreas si effettua tramite un'ecografia che abbiamo detto che può essere casuale. Prima cosa sono i sintomi che si devono andare a vedere, quindi visita medica, si va dal medico il quale potrà prescrivere un'ecografia per fare degli step successivi, quali la TAC con mezzo di contrasto che riesce a individuare praticamente i tumori del pancreas, si può agire con la risonanza magnetica nucleare, con una TAC PET, cioè con la PET che significa l'immissione di glucosio radioattivo. Il glucosio radioattivo viene captato più velocemente delle cellule neoplastiche, per cui si va a localizzare a livello delle cellule neoplastiche e si può individuare il tumore. La colangio LRCP, la colangio pancreasografia retrograda, che consiste praticamente nel tipo una gastroscopia, i nostri endoscopisti per esempio la fanno rutinariamente e riescono ad arrivare alla via biliare, iniettare del mezzo di contrasto e verificare se vi sono istruzioni nella via biliare oppure nel dotto di viso che è il dotto pancreatico. Un'altra indagine importante è la ecoendoscopia, sarebbe un'ecografia effettuata tramite un endoscopio, cioè tipo una gastroscopia con una punta, una sonda ecografica che fa vedere le immagini del pancreas. Tanto è vero che viene utilizzata spesso per fare le biopsie pancreatiche, con un rischio minore rispetto alle biopsie effettuate sempre tramite l'attacca. E come si interviene in questi casi, nei casi di tumore conclamato? Allora, nei casi di tumore conclamato si interviene in base agli stadi del tumore, stadi iniziali oppure comunque è sempre un approccio multidisciplinare. Multidisciplinare significa che è un approccio che deve essere fatto dal chirurgo, dall'oncologo, dal radioterapista e anche dal gastroenterologo. Lei dirige il reparto di chirurgia epatobiliopancreatiche di emergenza. Qual è la situazione nel suo reparto e dunque nella nostra città, la casistica se c'è? Nel mio reparto la situazione è che noi vediamo dai 15 ai 20 pancreas all'anno e sembrano pochi ma sono tanti. Alcuni vanno direttamente all'intervento chirurgico e gli interventi chirurgici vanno differiti praticamente in base alla sede del tumore. Se è un tumore della testa del pancreas, intervento chirurgico si effettua una duodeno cefalo pancreasectomia che consiste praticamente nell'asportazione di una parte dello stomaco, della colecisti, di una parte della via biliare, il coledoco, del duodeno, della prima ansa digiunale e della testa del pancreas. Noi effettuiamo una nastomosi microchirurgica che ci ha dato degli ottimi risultati da diversi anni che si chiama Virsung mucoso digiuna che si effettua con gli occhialini e che non ci dà grossi problemi di fistole pancreatiche che è praticamente il problema principale di questo tipo di interventi. Per quanto riguarda invece il corpo e la coda si può effettuare una spleno pancreasectomia che significa la rimozione del corpo coda insieme alla milza e tutte le stazioni fonodali. Questi sono i due interventi classici. Abbiamo un'altra forma di intervento, questo nelle forme resecabili, quelle praticamente che riusciamo a prendere in tempo e nelle forme invece localmente avanzate che non sono resecabili, cioè non sono aggredibili chirurgicamente per motivi vari, infiltrazione anche dei vasi perché il pancreas è a ridosso di vasi importanti, guarda la porta, la vena mesenterica e altro. Si può adottare la tecnica della termoablazione perché è una termoablazione che aumenta sensibilmente la prognosi, prognosi che se no andava da 3 a 6 mesi si riesce a portarla anche a 15-18 mesi e consiste nel bruciare con onda radiofrequenza il tumore. Chiaramente non è un intervento radicale come l'intervento chirurgico, però dà degli ottimi risultati. Mi sembra di capire che si tratta di tecniche avanzate, vengono praticate all'Aquila e dove anche in Italia? Verona è stato il primo centro che l'ha applicato, sono due o tre i centri in tutta Italia che fanno la termoablazione. Poi nel nostro reparto, devo dire che oltre ai tumori del pancreas vengono effettuati interventi anche sul fegato, abbiamo effettuato circa 180 resezioni epatiche sia per tumori primitivi del fegato, quindi gli epatocarcinomi, sia per le metastasi da tumore del colon o di altri tumori. È un'attività che è prevalentemente oncologica, i tumori ormai sono in netto aumento, abbiamo una marea di tumori del colon, dello stomaco, più fegato e pancreas, più la rotina. Ma quello del pancreas, mi sembra di capire, è uno dei peggiori? Quello del pancreas è uno dei peggiori perché la sua insorgenza è subdola e non si riesce a diagnosticare molte volte in tempo. Grazie dottore di essere stato con noi. Grazie a lei e a tutti. La puntata di Sanità Aquilana termina qui. Arrivederci a presto con altri argomenti. Buonasera.